Il cyberbullismo è quando qualcuno viene preso di mira online. Si fanno ripetutamente insulti e minacce, si escludono le persone dai gruppi o si aprono gruppi atti a denigrare le persone prese di mira. Le cattiverie si diffondono molto rapidamente e restano visibili per molto tempo. La cosa non finisce mai, anche quando sei a casa. I colpevoli hanno vita facile perché non devono mostrare la loro faccia su internet e osano quindi di più nelle loro cattiverie. Il cyberbullismo può colpire chiunque, ma puoi fare qualcosa per contrastarlo. Se qualcuno ti insulta online, bloccalo. Imposta il tuo profilo su privato. Non reagire ai messaggi negativi e non condividere tu stessa contenuti offensivi. Se noti che qualcuno subisce cyberbullismo, puoi cercare di aiutare la persona colpita. Mostrale che non sei contro di lei e incoraggiala a farsi aiutare. Perché non si può fermare il cyberbullismo da soli? Noi siamo al tuo fianco, sempre, in confidenza, gratuitamente.